Salve a tutti amici ben ritrovati, io sono SweetTerry e eccoci qui a un pistola di FIFA 20, moneta allenatore, setto a te Mr. Terry e a suo Milan. Siamo alle porte attività contro Sampedoria e FIFA, prima di aprire il gioco, ha mi informato che ci sono stati aggiornamenti su tatti che speriamo che non c'è niente di pericoloso creato dal gioco in questo momento. Nel frattempo noi guardiamo la storia civica in cui noi siamo quarti, apriamo tutto per vedere meglio, siamo quarti a 59 punti, 2 punti da Napoli, 6 dall'Inter, che è ancora fattibile, e poi ci serve aiutare che 16 punti ma lasciamo lì, anzi prima volta il calcio. Dietro però abbiamo sempre pericoloso il Torino e il Lazio, distante 2, 1 all'altra 4 punti, e il Fintina di Roma che si stanno un po' distaccando, diciamo, aggroppando sul tuo gruppo anche il calcio di quella Fintina di Roma, ma stiamo attenti perché il dietro, diciamo, stai detto, dobbiamo guardare avanti ma si attenta a dietro, sembrano sempre stare a tempo a dietro. Bene, tutto questo abbiamo, non so se si chiama il Cattoli con Cavani che è ancora primo, vediamo ancora dentro il Torino e l'Inter, no, siamo due da Juve, due dell'Inter, uno del Napoli, due del Torino e uno del nostro Milano, del nostro Cavani. Tutto questo noi veniamo da due vittori in fila, sarebbe molto male. Questa è un po' vittoria, tanta vittoria, anche bella grossa, e avremo questo episodio, Sampdoria e Genoa, le due Genoane, e nel mezzo abbiamo il nazionale Belga. Vediamo un po', ma che si vanno tutto, io so che non ci interessa tanto per ora, io sinceramente voglio vedere il Belgio solo per vedere qualche giocatore, ma niente di nuovo. Comunque, andiamo a portare a fare la nostra conferenza stampa, vediamo un po' che donne ci fanno oggi. Grazie per essere intervenuti oggi, direi di cominciare con un primo giro di domande. Questa squadra in corsa non posso rimanere, bene, ci portano già la Yel, dobbiamo rimanere concentrati, sarà il tempo, è semplice, lo migliorare. Intanto la verte è affrontata la squadra a Tampeloro, è stato sconfitto per 2-1, sì, certo, con gol, sempre due di un sesto da Torri, colto male. Non continuano a commetteremo i sesto errori, saranno attenti, lo spero, davvero lo spero tantissimo. Ha vinto l'ultimo giro di scato, si parla dell'ultimo giro di scato, non lavorai molto in allenamento, non si può facenti, ma dicevamo questo. Non vedo che cambia troppo. La conferenza... Sempre c'è la domanda che è a cavolo. Andiamo a dire, l'empatuto dal gol di B21, B0 e Jack il vecchietto che dimostra la sua età. Ma andiamo a fare la nostra squadra e affrontare la Sampdoria di Ferrero. Bene, squadra tolare, non andiamo a cambiare niente, tornando a Roma fra i pali, visto la parentesi della scorsa episodio con due partite a giocare da Cardoso, che è un po' stanco, quindi faccio riposare, faccio a giocare Donnarumma e speriamo che vada bene. Incociamo la dita. Accanto che guarda... Io ho paura. Molta paura. Hai capito. Eccoci qui, a Stato che ho best e Luigi Sferraris di Genova, ma anche se è una Stato di Vesa, tutto sempre l'Orio. Cioè, a San Siro, cioè, tutto a Miele è una curva enorme di... della squadra senza aspetta. In altre strade, tutto sempre l'Orio, ecco, un piccolo Angolo Milano, va che piccolo. Non è giusto, non è giusto. Guarda cosa sarà... effetto, mi piace. No, è lui, quella portata che ha fatto con la sua ASI, ho paura. Bene. Forza coraggio. Forza coraggio. Forza ragazza. No, no, no. È mutuo. Non fate vande e becca in posizione. Allora, che sono bene, stanno ci siamo un po' ritardo, ma non è a curva sua. William Costa, è questo che non ho mai visto, la segna lui. Non c'è Suarez, guarda male. Ma iniziamo con l'handicap di... Del... Stato di Ungott, vabbè. Grande Chiesa, come pallone Chiesa. La botta, subito 1-1. Grande Chico. È il Toro di Genova. In effetti lui è in casa Chiesa oggi. Una macchia a lui. Grande difesa, che sbaglia. Come va a fare il Ticchitacca di difesa, eh? Molto paura in questo momento, pensavo che si sbaglia se si visce. Invece è una botta, sotto il quartiere. Sotto le gambe del quartiere, è vero. Grande Chico. Subito 1-1. Meno male. Forza ragazza, non pace per le rodi. Io sicuro non sono fotte, non l'ho visto. Subito pallone da pezzi. Grande Gabel. Palla da pezzi di nuovo. Bello bello per Chiesa. 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 Per Jesus. No, che parte del quartiere, si è rifatto. No, non c'è. Non c'è. Oh, dai, uno che ci arriva. Uno che ci va. Gabel, vacci prima. Le quaia, ma... Venga, palla per Belli. Belli, su del pallone, non può essere il quale più veloce. Non può, non può. Palla per Jesus. Stavolta non sbaglia. Stavolta non sbaglia. Canale pensa a ritiro. Ma cosa è domani? Ma che canale ritiro, va? Mi faccio il gol e mi butto a terra. Come faccio in se cavane io? Il matador. A Giappang. E finisce. Vado con Gess. Vado con Gess. Vado con Gess. Vado con Gess. E' un tocco bassissimo. Ma non male. Comunque, sono stati cavane che... Tittina mi fa male. Ecco, dopo. Un tiro, un gol. Comunque, ovviamente. Un tiro, un gol. Su un giro di prima gol, certo. Vabbè. Forza, ragazzi. Forza, ragazzi. Stavolta che io, come si... Occhio a Quagliarella. Cercano col tiki-taka. No. Buttala. Porta. Sono grandi che stiamo troppo su ben. Un po' per troppo. Non mi pare. Allora, tengo un arp. Che mi informa per ora. Da panchinaro. Tornare. No. Leao per Gess. Vediamo una scuola fresca e giovane. Fresca, diciamo. Si vuole essere più veloci possibili. Ha disputato una prova convincente. Decisamente positiva. Era fra i più attesi e si è fatto trovare... Ehi, Betolacci è il nostro export. Vabbè, Nicolò. Vabbè, Art. Guarda che Cavani. Si gira Cavani. Il numero di Cavani. La botta di Edinson. La parla al portiere. E' lo fatto con Cavani. Allora, Palateo. Vedi. Art. Si gira. No. Ancora Art. E' che cavottina. Prima Harp. Cavolo. Non può essere. Non c'è difetto. E' lo campista. E' lo campista. E' lo campista. Lui ne ti va a f***. L'Eneaturi. Quando mi danno i campisti. I'impazzisco. No. E' che gli ha da lui. Grande zizio. Grande zizio. Porca. Sai che? Mi dà il compito. Stamattimale. Beh, lì. Vai, Gigio. Tenia lì. Fai morire tutto il mondo. Dalla lunghissima. Non ci interessa. Quanto c'è ancora da giocare? Andiamo a Bordoghiamo. E' qua di petto. E' finita. E' finita. E' finita così. 2-1. Oh, porca. E' sempre a soffrire. Sempre. Sempre a soffrire. Guarda, c'è una difficile. Buon giorno. Guarda, è un leader. Angelza Fascia. E' un leader rispetto. Che bello. Mi dispiace, ragazzi. Mi dispiace. Mi dispiace. Ma non lo vince. All'ultimo, Zizio ci ha fatto i miracoli. Commenta Zizio. E nonostante tutto, L'hanno fatto meno Tiri di 9 l'hanno fatto. E non è molto pericoloso. Scusami. Molto più pericolosi. Pericolosi. Non ci interviste. Non ci diranno. Assoluta le cose. Mi dispiace per la scuola Sampdoria? No. Mi dispiace per la Sampdoria. Ringraziamo il mister per aver accettato di rispondere ad alcune domande. Tu mi hai dato i complimenti, grandissimo giocatore. Dispiace per gli altri, ma ce la più solo noi. Intervallo. Prima di tutto, la giornata è stata di ripresa. Hanno giocato meglio. Hanno dovuto chiudere la partita, ma vabbè sì, resiste l'importante. Quindi la squadra a temere è un match smattuto. Ho avuto paura di non farcela. Nemmeno poi un istante. Certo, io mi sono caduto addosso per tutta la partita, ma diciamo facciamo gli spavaldi. Io non mi spavento di niente. Certo. Grazie a lei, arrivederci. Bene, donna un modellistico, un Rasa in Pdoria. Che alleano? Credo che avrei potuto fare, che c'ha? Credo che avrei potuto fare meglio la notte della squadra, ma non mi ha connesso la chance. Non prenderla. La finanzia, vedete, non si arrabbia una sola un po' di istra. Bene, abbiamo i nostri. Andiamo a guardare. De Cardoso. No, piazzati portieri, lascia un piazzamento. Che mi è più accanto nei piazzamenti, il cardosigno. È il pechegno. Tutti crescono, va bene. Bene. Ora c'è la nazionale, noi siamo secondi. C'è il bel giocati secondi, la Svizzera. Che cosa succede? No, del bel giocato siamo fattuati. No, dei negli ero. Why? Che hai fatto? 1 milione di pensioni centrali. No, che bastate? Onde il signore è se c'è? Che è incredibile come... Il bel giocato è Tetzini. Non ha Tetzini, ha soffo che tanti c'è. Ma come è che Tetzini non esistono in Belgio? Perché? Perché in Belgio non ci sono Tetzini? C'è un secondo Tetzio trovato. Tetzio, però adesso, ovviamente. Quarto. Vabbè. Grazie, grazie. Vabbè. La Norvegia. Andiamo un po'. Siamo in casa. Io devo stimolarla. Andiamo come va. Spendo che il... Non faccia tutto buono da Svizzera. Cos'è tranquilli. 3-0. Cappietta. Zardgold. Odegaard. Vabbè. La Svizzera è ancora dietro. Se sono 6 squadre. Nel campionato. Non fanno 10 partite. Quindi tra poco ci saranno altre due. Vediamo se Fife non si è bloccato. Si è bloccato. Va bene. 6-1. Quindi la prossima sarà no. Belgio-Italia. Poi c'è Irlanda-Belgio. Perché sta contro l'Irlanda. E poi la Svizzera in casa. Quindi possiamo anche stimolare contro l'Italia. Vince o perdere. Siamo noi, anzi, davanti all'Italia. Scusate. Ah, quindi la Svizzera ha pure perso. Ottimo. Vabbè. Siamo anche in casa. Simuliamo anche questo. Forza ragazza. Ma lei vi lascerò il Beggio prima. No, ne ho perso 3-1 addirittura. Benandeschi. Doppiette e Verratti. Doppiette e Benandeschi. Non è chiusa come l'ha fatta. Parella, Giorginio, Verratti, Venandeschi, Immobile e Sharawi. Ah, signor senatore d'Italia. Deve vedere tutte. Comunque. Se la pista, sei infortunato. Perché sei infortunato. Noi mi chiamo nei miei. Lukaku, vabbè. Quattro mesi. Mi ziccato. Abbiamo anche aggiornamenti della primavera dei nostri aggiornatori. Vabbè. Stato strada. Anche solo cos'è? È un portiere. Cioè, il mio portiere è velocissimo. Di mezzo centrale. Ma cos'è con è? Di mezzo centrale così veloce. E anche lui se prendiamo. Da veniamo un po' di Ivoriani. Non può contare da niente. Allora abbiamo... Da Brasile abbiamo Enrico. L'idea è di lasciare Enrico lì ferico e prendere Mariani. Beh. Vediamo un po' la cosa primavera. C'è Kul... Allora, che abbiamo preso? Noi. Conè. Che è un 16-17 anni. È un po' basso. Può crescere. Kulibali ci ha un danno già più forte. Mettiamo lui magari in prima scuola. Sì, possiamo poi cederlo. Poi abbiamo Bamb. 15 anni. Cresciamo da 3. Buono. E dove? Mariano. Questa è a 15 anni. Eh, deve crescere. Pessoa. Suss. Anche qui stiamo... Passare. C'è Antonio Marino. Mmm. Poi abbiamo anche comagati. Così possiamo andarle un po' in giro. Antonio Marino. Sei famoso. Bene. Che devo andare a ria? Frank. Che è sta cosa? Frank. Ti ho avuto tanto bene. Dov'è? Eh, sei. Ma si, dai. Poi abbiamo bisogno di una squadra. A 16 anni ti ha potuto essere tolare. Non lo so. Beh, abbiamo due con un 51 a 16 anni, un 56 a 17. Grande potenza. Allora, lui è alto e veloce. Cioè, non tanto, ma può crescere ancora di velocità. Questo mi incuriosisce. La velocità c'è, la relazione è pura, forza è idem, difensivamente. Contro palla è migliorare. Però già, non ci trascate resistenza, forza, elevazione, acerazione e aggressività. Quindi era un po' di esercito in 3 moderno. Vabbè, andiamo a vedere cosa succede ora. Se magari giocava qualcuno prima. Ma il napolegio mi pareggio perde. E Bruno Ferrea. Tutti vogliono andare via. Porca la miseria. Ma chi è Bruno Ferrea? Bruno Ferrea, c'è il ciclo da 6 anni. E che fa? Come lo promuoviamo? Promuoviamo. Ma già lo visiste, grazie. Bene, siamo domenica pronta a affrontare il Genova. L'Azio e Torino hanno vinto. Quindi noi ne abbiamo dietro il feo sul collo. E però, siamo del genere. Vediamo come gioca con altre squadre, come giocano. Con chi gioca con altre squadre, scusate. Allora, Lazio 3-0 con Chievo. Dovino 2-2-1 con Brescia. L'abbiamo avuto l'esercito in Friamentina. Napoli-Inter. Questa è molto despecchata. Il Napoli perde. E noi dicevamo a vincere. E la passiamo in Napoli. Se l'Inter perde, ci avviciniamo molto all'Inter. Molto. Saremmo noi a tre punti. Se pareggiano, vi avviciniamo in Napoli. E siamo avvicinati all'Inter. Quindi, sempre buono il risultato. La Juve con la Roma non ci aveva niente. la Fentina, poi Fentina Juve, va bene, ok, andiamo, non guardiamo la Juve, anche quella ormai, stai andando avviate da un po' di tempo, eccoci la diligenza, salva tutti, bene, possiamo iniziare, e chi vuole fare la prima domanda? Ancora, abbiamo, abbiamo sempre le stesse domande, magari dicendo, eh, a visti i giorni trovare attenti, no, che mi sto domandando, andando a frontello dell'altro posto è Cassifio, l'ultimo posto di Genoa, la Cassifio di scuola oggi non conta, no, guardiamo la nostra Cassifio, e hai 3 punti, non è una ultima, addirittura, proviamo a vincere di nuovo, un po' di Genoa ultimo, era l'ultima, Genoa ultimo, l'Empol c'è, allora se ha solo l'Empol e la squadra lì, sono salite tanto, però se non è, tu, Genoa, ah, Genoa quindicesima, no, un fra l'ultimo, eh, insomma, la quindicesima è l'ultimo, ci sta che sei quindicesima, Genoa che è la squadra, ma non è la ultima posto, certo, vabbè, nel frontello del Genoa, nel frontello della squadra, non può aspettarci, cosa chiedo, ma no, Rosario, uè, Rosario, a Fioriello, bellissima, non si ferma, bene, sempre a squadra isolare, non possiamo perdere i colpi, e non ha fatto un'ottima partita, ha fatto un'ottimissima prestazione, e quindi metto un posto in prima squadra, un posto io, anche questo 40-12, guarda, davvero, contento, e Jack lo guarda male, bravo Jack, guarda quasi, sta cosa genuana, bene, ci sembra lo stadio Ferraris, o lo stadio Europa, come deve stare qui su FIFA, lo stadio, lo stadio, lo stadio, mi raccomando, mi raccomando, capire, eccoci qui, lo stadio Europa, Alice, Luigi Ferraris, di Genoa, per l'attività più bellissima, più bella del mondo, per l'attività se lo sentire, Genoa-Milan, qua sempre noi non abbiamo uno spazio, tutto rosso-blu, tutto rosso-blu, per noi andiamo in mezzo a curva, c'è una curva solo a Lodi, e agli ospiti, noi in uno spazio, sempre simile a Cosa Fia, quella di Genoa, non dobbiamo ascoltare che sta andando tutta nel Finan, vediamoci per la vittoria, almeno proviamoci, ragazzi, beh, l'azione tutto di prima, tutto di prima, vai Belli, vai Belli, vai Belli, un po' di culo che il tiro non era fuori, era un po' fuori forse, non entrava, ma grazie a difensore a Genoa è entrato, grande Belli, che la mette proprio lì, è difensore, io direi così come un altro assist Belli, dai, Leone mette un altro assist, chi è il 23? Come si chiama? Chi è tizio? Bernardo? Eh Bernardo mi spiace, è sfortunato ma grazie Bernardo, io posso fare il gol al nostro Milan, no, 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 queste cose, no, grande zizio, grande zizio, Andateo? 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 Un indifrin여 di pressing? Cavani? Ui, fallo? Questa è muoziazione, dai? E' brutto tacco? E' espulsione? Viraskhi è espulso? L'iconosce così? Pardo? Aia E' lì? E mi viene, vieni, arriv concet, eh melhores? Eh non, non farei che si lascia aperte ottimo, non me l'aspettavo ma ottimo forse così col gioco in 10 magari si apre un punto l'espulsione è un po' esagerata per noi va bene così c'è il tocco corto, arretrano il raggio d'azione invitando in pratica gli avversari a fare la partita e attaccare Gabriel Jesus voleva sorprendere la difesa ma qui è tenito in offside e qui venivano il gioco con facilità astronomica il gioco è invece di là a sinistra, colpiamo a sinistra va là, perché così lunga Belli che ci arriva Belli, la tiene dentro, la tiene dentro, la tiene perché sa? no, che ha parato il portiero, come? con i piedi, ma si è tuffato bella palla perché? per il Nance che si è andato sulla fascia Cavani! è 2 a 0 si sblocca Matador eh, non so, bombele un po' non c'è che si tenta nulla si, si, si Matador, si Matador bellissima palla per Teo il Matador Cavani non finisce mai di subirci e bisogna aggiornare i suoi numeri dei gol nato per fare gol nato per fare gol, questa volta è con gol ok altra volta per hanno animare po safari noi lo puntiamo avventura ci thểna bella palla per vero lo scambio al buong mais c'ha che venga è Il potere non poteva... Di fatto di correre così veloce Brava di pensare Ha letteralmente salvato la propria posta Impedendo il pallone di la collega Così troveri, prendi fallo Non è molto insieme questa Si ripartirà con un calcio di punizione Il recupero della trequarte avversaria E c'è la conclusione Comunque veramente I miei stanchissimi lo sono meno stanchi E insomma è presso no C'è sotto a zero Non basta 92 siamo Porca miseria, continuano a giocare Non abbiamo subito il gol oggi 2-0, perfetto L'espulsione ci ha aiutato molto Sicuramente perché Si sa che le squadre per andare a giocare bene Non iniziano a fare Fanno cosa ti fanno Però questo 2-0 è buono perché Tengono la porta pulita Napoli perde 2-1 Quindi noi siamo davanti al Napoli Siamo terzi L'Inter a 6 punti ma È sempre stato più difficile Anche se perdeva contro il Napoli Avremmo avuto l'Inter a 3 punti E il Napoli sempre davanti al Napoli E invece così il Napoli ci rimane C'è sotto il Napoli Siamo terzi E beh Cavani cosa devo dire E deve continuare così Fino all'ultimo Le sue gol, la sua grinta, la sua forza Eh, dispiace Fa parte del gioco Ma io vedo anche i risultati Non posso certo perdere punti Per regalare punti così a caso Scusate ma... Non vale Ci sono meditati Ma dobbiamo stare concentrati Scusate Grazie ancora per il suo tempo Poi qua è il quindicesimo È avanti in più Quindi rimane il quindicesimo Non è ultimo Vediamo un po' Vediamo se è cavato del ultimo posto Noi siamo terzi E questo è otto Un punto davanti al Napoli Ma siamo terzi Mancano otto partite Cioè con 21 vittori Ho stata sconfitta Ho troppe sconfitte E poi alcune rocambolesse Comunque Siamo terzi Ho 6 punti sempre dall'Inter Ok ma ha... Non ho scattato il Napoli Siamo davanti di un punto Ammio Lazio e Torino dietro 4 punti ma 3 dal Napoli Magari il Napoli ora perde un po' di colpi Il Frentino è un po' vicino Napoli inizia un po' a destabilizzarti Il Genoa è quindicesimo Ha 5 punti dall'altricesima 6 punti dall'altricesima E quattroci punti dal... Cioè questo non dice che è ultra Quattroci punti sulla... La terz'ultima Vediamo cosa è andata La risurrezione Va bene Andiamo i nostri Andiamo a fangare tutti quanti Quattroci punti Magari 60 secondi Lasciamo uscire 2 C'entra degli altri Martinesse cresce E magari potrò dietro di Martinesse A mettere uno dei cone Magari quello più vecchio Che è anche più debole Dio velo Andiamo avanti Andiamo un po' se ci si muove Cosa in classifica Bene Siamo avanti il chevo in casa Tutti i nostri commenti Tratta la Juve che ha già giocato No, nel prossimo episodio avremo Il chevo e l'Udinese Poi c'è la Juve Dai La Juve... C'è tanto spazio Tanto spazio Qua c'è un vuoto C'è la Juve Per forza la Juve Per forza la Juve Perché non qui? Cioè... Quella è qui C'è un vuoto C'è una settimana libera Una settimana libera E mi metto la Juve proprio qui Cioè magari mi sali il Genua Sali il Chievo Sali il Chievo La Juve metti domenica Non che ora devo giocare la Juve Contro la Juve Perché? Ma vabbè Comunque andremo contro il Chievo E... Che sarà una fia facile Contro l'Udinese Posta la Juve e Verona E poi avremo Caresa solo Prima del Match più clou Diciamo Che affronteremo Sia Inter Che sta davanti a noi ancora E Napoli Che siamo lottani Per il suo posto Quindi la Promozione diretta In Champions League Champions League Comunque Fino di questo episodio Spero che vi sia piaciuto In tal caso C'è stato un like E commentatevi la vostra In caso non avete fatto Iscrivetevi al canale E attenzione la campanellina Se vi piaceremo tutti i video Che usciranno E vi ricordo anche di seguirmi su Twitch Da fare live E su vari social Come Twitter, Instagram, Facebook Così sapete più sul mio lavoro E tra questo ragazzi Al prossimo episodio Al prossimo episodio Passo e chiudo Al prossimo episodio Al prossimo episodio